Sopralugo nel Parco archeologico di Velia del sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, Antimo Cesaro, accompagnato dai parlamentari Simone Valiante e Sabrina Capozzolo, ha visitato l'area archeologica, ascoltando le richieste della soprintendente Adele Campanelli e del sindaco di Escea, Pietro D'Angiolillo, per Velia 9 milioni e mezzo di euro dal PON per la valorizzazione di uno dei siti archeologici più affascinanti e suggestivi del Sud Italia. Una degna chiusura di questa visita all'interno del Parco archeologico. Sì, siamo qui con l'onorevole Capozzolo e Valiante per prenderci cura di questo territorio straordinario. Ci sono tante risorse da valorizzare, la nostra più grande preoccupazione è il futuro di questi ragazzi. Questi ragazzi hanno l'opportunità oggi di vedere una grande bellezza, ma penso che molti di loro si appassioneranno a queste evidenze storiche e artistiche del territorio e immagineranno magari un futuro lavorativo attraverso la valorizzazione dei beni culturali. È il nostro dovere corrispondere a questa passione che eventualmente si svilupperà. Io sono sicuro che la buona politica potrà dare delle risposte esaurienti. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. Avrà ascoltato sia i parlamentari cilentani presenti, sia la sovrintendente. Occorre un'attenzione del Governo centrale sul nostro patrimonio archeologico. C'è già un'attenzione particolare. Rispetto agli altri anni il MIBAC tra il 27% di fondi in più, dal bilancio pubblico, c'è una misura del PON che è dedicata alle regioni meridionali, abbiamo l'Art Bonus per comunicare con i privati, c'è un'altra Italia da raccontare. Noi non ci iscriviamo al partito del benaltrismo, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di dare risposte concrete. In Cilento non c'è solo Velia, c'è anche il sito archeologico di Pestomo, ci sono altre risorse che vanno valorizzate. C'è anche una enogastronomia di qualità, un ambiente, c'è tanto, c'è davvero tanto. Che cosa manca? Manca la voglia di crederci davvero e dare delle risposte. E c'è poi il Museo del Giocattolo che ci aspetta. Nell'occasione il sindaco di Ascea, Pietro D'Angiolillo, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale per il rilancio e la valorizzazione del sito archeologico di Velia. Sì, effettivamente è così. Il primo giorno da quando mi sono insediato sono venuto qui e continuo tutte le volte che posso a portare avanti dei progetti concreti in collaborazione con tutti. Io posso fungere da sprone per alcuni aspetti, perché chiaramente qui è zona, tra virgolette, delle soprintendenze, però con il protocollo d'intesa che abbiamo realizzato ha suscitato interesse anche a livello nazionale per cui questi sono i risultati di quel protocollo e proprio da questo protocollo dobbiamo partire per coinvolgere sempre di più le istituzioni. Noi continuo a dire che faremo da pungolo. Da dove ripartire dopo l'intervento, dopo la visita del sottosegretario? Secondo lei quali sono le emergenze immediate da affrontare al di là delle erbacce che le stiamo togliendo? Il mio punto di vista è noto, è quello di scavare, è quello di portare alla luce i reperti archeologici e quello di creare maggiori interessi e maggiori valorizzazioni del sito. Sì, Velia merita assolutamente sia i finanziamenti che l'attenzione, che la cura dello Stato, ma anche dei suoi cittadini, direi. È un paesaggio meraviglioso, un paesaggio dell'anima, dico io, dove veramente si può tornare in un tempo non consueto. Noi siamo abituati a percorrere luoghi consueti in cui sappiamo tutto come funziona. Velia ci sorprende sempre, con un odore in ogni stagione, con uno scorcio, con un paesaggio, con un'idea, con un pensiero. Ecco, è un luogo dove il pensiero va. Ma al momento di quali attenzioni particolari ha bisogno? Sentiamo questo profumo d'erba appena tagliata, vuol dire che ci sono degli interventi in corso, l'erbacce purtroppo continua a crescere, però non è solo questo che va a fare. Ma io devo dire che poi l'erba è anche un valore, è anche bella, è anche a me questi paesaggi rasati. I cimiteri sono un'altra cosa dalle aree archeologiche, quindi è giusto che i vialetti siano puliti, ma mi piace anche molto che invece ci sia la vegetazione spontanea, contenuta ma spontanea, perché il bello di Velia è anche questa macchia mediterranea spontanea. No, noi stiamo facendo progetti perché ci sarà presto un grosso finanziamento su Velia, quindi abbiamo intenzione sia di lavorare sul dissesto idrogeologico, che è la cosa più grave da rimettere a posto, sia sulla fruizione di Velia, quindi una certa semplificazione alla fruizione, a cominciare dalla tabellonistica per arrivare a Velia, che non si sa mai dove è, e poi sulla valorizzazione, quindi delle piccole sperimentazioni per fare a Velia delle operazioni compatibili con il luogo, quindi di benessere. Sto pensando all'uso delle erbe medicinali, al laboratorio, a una tisaneria specializzata in benessere, quindi abbiamo delle idee che stiamo progettando e che speriamo presto di vedere. 9 milioni di cui parlava il sottosegretario serviranno proprio ad avviare questi progetti. Esattamente, poi naturalmente ci vuole il territorio che partecipa, perché noi facciamo questi progetti, ma certamente non li gestiremo, quindi ci vuole un interesse da parte del territorio sia a mantenere, sia a far decollare Velia, perché Velia ha attualmente 32 mila visitatori, io direi che noi a 50 ci dovremmo arrivare tranquillamente, ma la meta dei 60 potrebbe essere già un risultato ottimo.